Oggi siamo andati in un parco vicino a Gand. Andavamo in bicicletta, accarezzavamo gli animali, facevamo un picnic e giocavamo molto. È stato super divertente! Oggi siamo andati a un parco vicino a Gand. Andavamo in bicicletta, accarezzavamo gli animali, facciamo un picnic e giocavamo come mai. È stato super divertente! Grazie a tutti! 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 ! a tutti! 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 a tutti!